raccontare vent'anni in due ore e mezzo è come mettere tre litri d'acqua in una bottiglia da un litro è difficile allora la scelta delle canzoni l'ho fatta io e allora adesso arriva una begin ho scelto solo questa perché è stata quella più diciamo caratteristica ed è un pezzo che è nato così una mattina erano le sei circa e mi trovavo a casa di valentina c'era questo pianoforte e mi sono messo lì e da qualche nota che appunto così ho schiacciato in quei tasti è venuto fuori questa canzone Grazie a tutti. 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 Come una minca nanna si addormentò Il mare lo pulla e lui soffrava Di tornare presto alla sua casa Oh! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.